Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, ci sono 3 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Ci spostiamo in Fipilicco di attratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. Per i cantieri sulla SRT 429, lavori di asfaltatura e fresatura nell'Empolese tra Fontanella e Santa Andrea, possibili rallentamenti. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario regionale 2306, Roma Termini, Firenze e Santa Maria Novella, sta viaggiando con 35 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione è al momento previsto alle 11.32, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!